Da una parte il mercato, dall'altra i pensieri alla nuova stagione che inizierà ufficialmente il prossimo 10 luglio con il Raduno nel centro sportivo di Asseminello per riprendere a correre in vista della Serie A. In casa Cagliari sono giorni di programmazione con l'uscita del calendario del prossimo campionato che aiuta Claudio Ranieri e i suoi ragazzi a delineare fin d'ora quello che sarà il futuro prossimo di Rosso Blu. Inizio in trasferta a Torino, poi il debutto a Casalingo contro l'Inter di Barella prima delle sfide a Bologna e Udinese che anticipano un poker di fuoco tra Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma. Il DS Rosso Blu Nero Bonato ha definito un calendario equilibrato, quello che aspetta il Cagliari che nel gerone di ritorno dovrà fare tanti punti prima del finale caldissimo con Genoa, Lecce e Sassuolo a fare da Cuscinetto alle sfide proibitive contro Atalanta, Inter, Juventus, Milan e Fiorentina ultima di campionato davanti agli propri tifosi. Sul mercato invece dopo aver attraversato giugno e con esso la chiusura del bilancio economico della stagione 2022-23 il Cagliari ha premuto il tasto stand-by sia in entrata che in uscita. Ranieri attende ma l'idea condivisa al tecnico Rosso Blu sarebbe quella di valutare in ritiro la rosa e dopo i primi giorni fare le opportune valutazioni. La società Rosso Blu procede a fare i spenti, diverse le idee nella testa di Bonato ma nessun passo deciso a stretto giro. Finora è arrivato solo il ganese sulle mana dal Verona per 4 milioni. Piace tanto il 2003 Prati della Spal sul quale si continua a lavorare per non perdere il vantaggio sulla concorrenza e soprattutto convincere il club di Giotta Copina ad abbassare il muro dei 10 milioni di valutazione. Sempre vivo l'interesse per Jankto del Getafe ma il nome nuovo è quello di Gaetano Ristanio dell'Inter. I Nerazzurri vorrebbero un prestito in Serie A dopo la positiva esperienza in Olanda con la maglia del Volendam e il Cagliari in questo momento è il favorito nella corsa al trequartista classe 2002 dei Nerazzurri.